andiamo al prossimo che è Efti da Genoa, difensore terzino destro, nuovo del Genoa è già diverso un bel giocatore stamattina ha parlato, visto che c'è positivo, ha parlato il Tassotti il suo vice e ne ha parlato bene c'è anche la possibilità che giochi anche dall'inizio, visto che si gioca il posto con Gordania e con Baselli con Sabelli è un giocatore con esperienza, visto che ha anche totalizzato presenza in Champions League viene dallo Young Boys dal campionato svizzero che ha già affrontato anche squadre italiane questa Champions è un giocatore veloce non è io lo voglio ancora vedere un po' nel capito italiano come si ambientirà, anche se comunque già vedendo nella caratura internazionale nella competizione internazionale ha fatto ha dimostrato di saper giocare bene sulla fascia sia da punti di vista offensivo che anche che anche difensivo come consiglio andiamo a consigliare come settimo bar ottavo slot una lega a 8 è come un abbordabile sesso slot nelle leghe numerose tipo una lega a 10 grazie a tutti